Abbandonava pneumatici per le isole ecologiche di tutta la provincia. Ad essere protagonista di questa scriteriata condotta inquinante, un imprenditore asiatico di una ditta di montaggio e smontaggio mobile a San Costanzo che è stato individuato dalle indagini della polizia di Fano e dei carabinieri forestali di Pesaro che hanno permesso di ricostruire un lungo elenco di illeciti avvenuti negli ultimi mesi. Sono infatti stati accertati otto episodi nelle isole ecologiche di Fano e San Costanzo per l'abbandono di una tonnellata in mezzo di pneumatici ovvero circa 180 gomme. A questi si sono aggiunti altri tre abbandoni notturni di altri 50 pneumatici e un frigorifero fra Pesaro, Monbaroccio e Villabetti. L'imprenditore si occupava del recupero di varie tipologie di materiale fra il pesarese e la Romagna che poi rivendeva in Asia. Questo materiale veniva conservato all'interno di un deposito nell'entroterra che, una volta giunto a saturazione, veniva liberato ricorrendo allo sversamento nelle isole ecologiche della provincia. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per l'attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi. Il materiale abbandonato è stato trasferito presso i centri di raccolta autorizzati.